Marco Magri, lavoratore caposquadra dell'Asia Napoli, perché lei voterà FILAS? Perché oggi l'Asia Napoli è l'unica lista di persone oneste e dignitose, l'unica lista che non sono sindacalisti ma sono missionari al servizio dei lavoratori. Oggi io sono sceso in campo per Dalmanforte alla lista della FILAS, questi sono 14 missionari, sono 14 leoni e per questo io mi sento con tutto il cuore di scendere in campo per loro. Il nostro motto oggi in Asia è questo qua, meglio la dignità nella solitudine che la vergogna del compromesso. Noi andiamo avanti senza compromessi, andiamo avanti con il cuore e con la forza e siamo certi e sicuri che sicuramente noi vinceremo. Al di là che la GGL, Cislu, Will e Fiadella sono scesi come Davide e Golio, loro sono scesi come tanto Goliath. Noi rappresentiamo Davide in questo momento, noi vinceremo con la fionda della forza dell'Eterno. Grazie. Grazie.